Un vertice in procura ad Arezzo. Al centro dell'incontro il caso di Katia Dello Marino, la 41enne biturgenza ritrovata senza vita e con la testa fracassata lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra Sansepolcro. Al tavolo davanti al PM Giulia Maggiore, i militari del nucleo investigativo di Arezzo e i carabinieri della tenenza di Sansepolcro. Un incontro dunque per fare il punto della situazione sul frangente investigativo. Le indagini sono infatti proseguite senza sosta in questa calda estate, ma ancora rimane senza volto e senza nome l'assassino della 41enne. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, i tabulati telefonici, i contatti della donna e soprattutto le ultime ore di vita della giovane che potrebbero fornire qualche elemento in più agli investigatori. Ma si continua a cercare l'assassino anche attraverso la pista del DNA. L'assassino avrebbe infatti lasciato la sua firma indelebile sul corpo della donna. Dal materiale genetico rinvenuto sul cadavere della 41enne è stato infatti possibile isolare il DNA di ignoto 1, quello che potrebbe essere il profilo genetico dell'assassino. Le prime comparazioni hanno dato esito negativo, circa una trentina, ma gli esami del DNA proseguiranno indubbiamente con nuovi confronti. Nella caserma dei carabinieri della tenenza di Sansepolcro ad oggi sono sfilate oltre 300 persone.